No ai sterili attacchi, bisogna lavorare in sinergia per potenziare una grande realtà. Così il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Giovanni Di Polito, difende il corso di laurea in medicina e chirurgia. Alcuni disservizi non oscurano la professionalità, aggiunge Di Polito, intervenendo in merito alle dichiarazioni sul malfunzionamento del corso di laurea e ipatia, distaccato al Consorzio Universitario Nisseno e dipendente dall'Università di Palermo, espresse dal deputato regionale del PD, Mario Alloro, in una nota, all'indomani del sequestro da parte della Guardia di Finanza dei Locali di Medicina a Enna. È una posizione ferma non solo da presidente dell'Ordine dei Medici, ma anche da chirurgo, perché so bene che il corso di laurea in medicina e chirurgia della sede di staccata di Caltanissette è un corso validissimo, non solo per l'ottima preparazione dei docenti coordinati dalla professoressa Italia Di Liegro, ma anche per l'assoluto feedback positivo che i ragazzi, gli studenti, hanno sia con i docenti che con noi medici ospedalieri e con i medici di medicina generale che frequentano e quindi hanno una preparazione, direi, medio-alta già di base. E quindi gli attacchi sterili e assolutamente preconcetti da parte di personaggi che tra l'altro non hanno nulla a che vedere con l'Università e quindi non hanno contezza di ciò che sia la preparazione dei ragazzi, mi è sembrata superflua, inutile, dannosa anche per il nostro territorio. Noi ci siamo laureati, sappiamo che problemi avevamo, ma sono problemi solo e esclusivamente logistici che con la sinergia delle istituzioni, tutte quante, compresa anche quella dell'Ordine dei Medici, ma io parlo soprattutto di consorzio universitario, parlo di CEF, parlo di università, parlo di amministrazione comunale, tutti questi, la sinergia di tutti questi enti può far sì che i ragazzi migliorino anche da un punto di vista qualitativo la loro vita extra-universitaria nella nostra città. Poi alcuni miglioramenti vanno fatti anche a livello proprio, diciamo, didattico, sicuramente perché tutto è migliorabile, però sicuramente abbiamo una partenza buona, buonissima e quindi possiamo solo andare a migliorare sempre di più.